Buongiorno, terzo giorno e oggi mi trovo in Val San Nicolò, la strada per salire è chiusa, quindi ora mi farò tutta la vallata. Ecco questo doveva essere il mio punto di partenza, amario a croce fisso. Mi farò un bel caffè per iniziare la giornata. Allora, qui dovrebbe essere l'afferrata dei Magnifici 4, che è la più difficile delle Belomiti. Ecco, qua si vede bene il giro. Salirò al Passo Pasquè, girerò dietro al Colombert per arrivare al Passo San Nicolò. Se il tempo è bello, farò la scima del Colle. Dopo una bella ricarica, uno strudel che raggrossa come il mio braccio. Ci sale. Questa è la valle di San Nicolò. Meno male che di qui non ci sono nuvole. Si si vede un pochino. Comunque mi so se la cima è inutile farlo. un pochino. Eccolo. Alla forcella Pasche 2005, con delle visioni di Kamoshi. Non capisco. hanno la forma dei Kamoshi. Non muovono neanche. Oh, mi hanno tolto un po' di nuovo. Bene. Ora di qui. E poi PAM. Dritto per dritto. Sul Cimone. Questa è una famosa linea difensiva austriaca dalla Prima Guerra Mondiale. E infatti si vedono ancora resti. Non so questo magari si è messo al posto, non lo so. Però quella è una lattina di cento e passani. È incredibile. Allora ho perso un attimo di 4, un 50-100 metri. E ora da qui attacco la cima. c'è fatalmente freddo. Fa un po' nevica e io sto sudando come un maiale. Lì scordina e sono in cima. Eccola. Ci credo che non ci sono nuvole in questo momento. che botta di culo. Che bomba. Ecco la nuvola che arriva. un culo. Lì c'è il rifugio. Ok. Cima del colo. Bomberta fatta. Guarda, si torna giù. Scendo questo primo tratto che non è bellissimo. prima che piova. Poi dopo sotto lì è molto più serena. E si vola. Comunque dai. Un po' di panorama si vede. Poco sotto la cima. Cioè oddio, poco sotto l'attacco della cima. C'è questo bivio che portati lì in Val delle Cirelle. Mentre io andrò a rifugio Passo San Nicolò. in tanti piove. Questo cuore. Metterci la ciliegina. Allora. Qui si scende da questo canale. Per poi tagliare sotto qui. Arrivare a rifugio che è proprio dietro quelle colline verdi di Windows. Niente, ho. 3 su 3 è presa l'acqua. Che falle. Vabbè. Ecco, rifugio Passo San Nicolò. Ok, sono ripartito da rifugio dopo una bella birretta fresca e un giorno di caldo. Bello carico per il ritorno. Bisogna arrivare alla cima a prede con trin e si si butta giù con i diretti. Sì, tutto il tratto di bosco è fatto. Sono arrivato al... Cioè, leggetelo a voi sto nome. A Rausch Daggett. Ecco che sono tornato giù. Quella sono le cascate. Quella là è la baita. Cascate. E niente, ora è proprio una sterratona. Questa è la strada dell'andata. Quella è il Cimone. Ok, dai. Giro praticamente finito. Mi manca l'ultimo tratto di bosco. Ma che boschi? Li tirano lucido qua. Sono lì che... Comunque è un bellissimo giro. Sicuramente fatto in una giornata migliore. Guarda dei panorami. Anche la prossima volta ci toccherà tornare. Sono riuscito a chiudere un giro. Sì, il secolo di questo viaggio sulle due veniti. Niente, l'ho presa ancora. Incredibile. Comunque questa è giusta. Questa la dovevo prendere. Se non è 6, le dà una pioggia alle 6. Quindi questa non posso dire nulla. Nel ogni grado. Domani nevica.